E' iniziata la discussione in aula sul nuovo piano casa regionale, il PD presenta la propria manovra emendativa al provvedimento e ne parliamo col capogruppo Lucio Tiozzo. Sì, sono tre, quattro i punti su cui la nostra azione sarà durissima in aula perché riteniamo che il piano così come è stato presentato sia completamente sbagliato. Il primo punto è il rapporto con le amministrazioni locali che devono essere in grado di fare una modulazione, una programmazione su come questa legge deve essere applicata a livello territoriale, soprattutto sul fronte degli oneri di urbanizzazione e sulla realizzazione di alcuni interventi. Secondo, riteniamo importante che i tempi siano cortissimi per rendere efficace rapidamente questa norma e aiutare il volano occupazionale e imprenditoriale della nostra regione. C'è il terzo punto, il problema legato alla salvaguardia del suolo, in sintonia anche con la legge che abbiamo presentato. Noi riteniamo che la legge sul piano casa non debba usare eccessivo suolo e si debba lavorare soprattutto invece sulle ristrutturazioni. Poi per quanto riguarda le aree agricole riteniamo che anche questo sia un punto importante che va visto con grande attenzione.